Erika Stefani, perché la Lega Nord si è astenuta sul voto di scambio? Ci siamo astenuti perché il provvedimento in sé permette di superare alcune difficoltà interpretative che c'erano anche attualmente, perché ricordiamo che il reato già esiste nel nostro codice. Tuttavia noi abbiamo ritenuto di astenerci perché l'attuale provvedimento ha previsto una diminuzione della pena rispetto all'attuale formulazione. E noi riteniamo che invece la lotta alla mafia si debba fare con mezzi sempre più duri, sempre più rigorosi, e in questo senso anche la pena rileva. Dispiace più che altro che il clima in aula non sia stato assolutamente sereno nel valutare una questione che invece è delicatissima e che deve essere affrontata con grande serietà e anche compostezza. Ricordiamoci che i morti, i martiri nella mafia sono da rispettare. E quando si parla di mafia ne dobbiamo parlare veramente con religioso rispetto di tutta la lotta che è stata fatta contro. Noi andiamo avanti, il ministro Maroni aveva fatto una grande guerra contro la mafia con grandi risultati. Noi della Lega Nord continuiamo con questo, anche con questo voto di astensione su questo provvedimento. Importante però di certo è che entri in vigore comunque una norma prima di questa tornata elettorale al fine di sconfiggere questi mali affari fra purtroppo queste associazioni mafiose e la politica.